Buongiorno a tutti cari amici di Liberi Oltre le Illusioni, siamo tornati con un episodio extra della nostra rubrica Estranei, quindi questo episodio potremmo chiamarlo Estranei, perché abbiamo deciso di fare un episodio extra rispetto alla nostra solita cadenza mensile di questa nostra rubrica su Est Europa, Asia Centrale, Ucraina e Russia. La notizia, come avrete già intuito dal titolo, è quella lanciata qualche giorno fa dalla CNN e da altri media occidentali riguardante la plausibile presenza di soldati nordcoreani in questo momento in Russia che potrebbero essere dispiegati in Ucraina. Vi mostro un paio di articoli per spiegarvi un po' l'antefatto. Qualche giorno fa CNN ha lanciato l'allarme in coordinazione con degli annunci prima del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e confermato anche dall'intelligence della Corea del Sud, appunto riguardante uno spostamento di truppe dalla Corea del Nord alla Russia. Questa notizia perché è eccezionale, perché è particolare, perché fino ad ora abbiamo visto solamente una collaborazione riguardante la tecnologia tra Russia e Corea del Nord, mentre adesso stanno venendo dispiegati anche delle forze di terra. C'è poi un altro articolo del Guardian che sottolinea quanto questa cosa non sia particolarmente rilevante sul piano militare e quanto in realtà sia molto più rilevante l'invio di armi da parte della Corea del Nord alla Russia. Però, come stavamo prima dicendo appunto con Anna in off camera, questa cosa più che altro è una valenza simbolica, ovvero i russi si stanno permettendo di importare soldati da altri paesi. Questa cosa tra l'altro non è nuova, ricordiamo negli scorsi mesi sono saltate fuori notizie di presenza di mercenari provenienti da paesi africani, specialmente del centro Africa. Mentre per quanto riguarda l'Ucraina c'è sempre una grande difficoltà burocratica e logistica per portare volontari, addestratori da paesi occidentali all'Ucraina. Quindi, Anna, che cosa ci puoi dire su questa notizia? Innanzitutto, per prima cosa che è una notizia che chiaramente deve trovare la sua conferma e credo che la troverà il giorno che verrà catturato o ucciso il primo nordcoreano. Sul fronte del Donbass, credo che il commento che non abbia una grande valenza militare, credo che sia vero, anche perché se stiamo parlando di 12.000 truppe, 12.000 truppe è più o meno quello che i russi perdono sul campo in due settimane, quindi non credo che vada a cambiare l'equilibrio, considerando che sono anche truppe ovviamente, ma a prescindere dalla qualità del personale militare nordcoreano, sul quale ci potrebbero essere anche dei dubbi, comunque si tratta di truppe che sono state portate su un terreno che non conoscono, parlano la lingua nemmeno dei loro stessi comandanti russi, eccetera. Credo che il loro utilizzo possa essere molto limitato, però è una mondializzazione della guerra, infatti la preoccupazione della Corea del Sud, e la quinta intelligenza ha confermato questa notizia, è stata enorme perché è proprio la conferma che la Russia non sta facendo una guerra, per un contenzioso territoriale post-imperiale post-sovietico ai margini dell'Europa, che non tutto sommato riguarderebbe soltanto la Russia e l'Ucraina, come qualcuno cerca ancora di presentarla, è una guerra. L'Ucraina è la vittima e il bersaglio, ma non è l'avversario a monte, perché la Russia, del resto Vladimir Putin lo dichiara in continuazione, sta combattendo l'Occidente e sta cercando alleati per combattere l'Occidente, insomma una sorta di asse del male di cui si parlava all'epoca di George W. Bush e che ritorna in questo modo strano in varie forme, perché vediamo i vari tentativi di Mosca di creare alleanze anti-occidentali o alternativi all'Occidente, che possono essere alleanze più economiche come i BRICS, con il vertice dei BRICS che si tiene in Russia e che Putin presenta come il trionfo della sua diplomazia, può essere l'aiuto con quell'alleanza anche militare con varie forze, dichiaratamente anti-occidentali che possono essere l'Iran e la Corea del Nord, possono essere appunto tante forme e stavo tratto adesso prima che ci incontrassimo qui, stavo leggendo il commento di Alexander Baunov del centro Carnegie, ex centro Carnegie di Mosca, adesso ovviamente in esilio come organizzazione indesiderata in Russia, un politologo, uno dei più brillanti di questa generazione di studiosi della Russia, che sottolinea come la Russia ha scelto come ormai politico ufficiale quella di appoggiare e di legarsi a tutti i cattivi ragazzi del mondo, che siano i taleban, che sia Hamas, che siano gli iraniani o i nordcoreani, la Russia invece di presentarsi come ha cercato di presentarsi anche nei primi anni putiniani, come il paese che voleva cogestire insieme all'Occidente il mondo e quindi che se parlava con Hamas per esempio, con i taleban, lo faceva, diciamo per conto dell'Occidente, vi ricordate che all'epoca della Siria c'era molto questa idea che la Russia sarebbe stata utile per dialogare con Assad, poi si è capito che la Russia ha una detenzione di dialogare con Assad, la Russia ha una detenzione di allearsi con Assad e aiutarlo a rimanere al potere, che era una cosa un po' diversa, però molti in Occidente, anche negli Stati Uniti, li ritenevano che il coinvolgimento della Russia potesse essere da parte dell'Occidente per gestire i cattivi ragazzi, invece la Russia e i cattivi ragazzi non solo non li vuole gestire, ma adesso, scrive Baunov, li vorrebbe incentivare, aiutare, spingere all'azione in questa sua guerra appunto su tutto il campo contro l'Occidente, dove qualunque cosa porta, scuota l'ordine internazionale visto come ordine occidentale americano vada bene, da qui gli Uti, da qui i coreani, da qui gli iraniani e da qui l'idea che Putin peraltro ha formulato molto chiaramente, che la Russia si riserva il diritto di aiutare i nemici dell'Occidente ovunque nel mondo, anche con le armi, secondo Putin in risposta a quello che lui percepisce come il grande complotto occidentale per aiutare l'Ucraina, quindi è una conferma questa notizia appunto che la guerra si sta, che non è una guerra locale e che si sta ulteriormente mondializzando per volontà della Russia, ricordo anche il trasferimento delle armi nucleari tattiche russe in Belarus, che è un altro, che potrebbe venire a letto come una sorta di tentativo quasi farsesco di imitare gli occidenti, dire voi avete la vostra coalizione e noi abbiamo la nostra, abbiamo Lukashenko che in realtà ormai è totalmente soggiogato a Mosca con la Belarus che ormai è una colonia russa, però facciamo finché anche noi abbiamo i nostri alleati con Lukashenko che riceve le armi nucleari sul suo territorio, tra l'altro da notare che in due anni e mezzo di guerra Putin non è riuscito a convincere Lukashenko a schierare le sue truppe contro l'Ucraina, quindi vediamo come in realtà riesce a controllare poco perfino quelle che sono ormai delle colonie, poi ci arrivano i nordcoreani e quindi abbiamo questa alleanza, un'alleanza che tra l'altro crea Putin dei problemi con la Cina, appunto perché la Corea del Nord ovviamente è ben felice di giocare su due tavoli tra Mosca e Pechino, Pechino un po' meno felice di scoprire che Kim può avere una boccata di ossigeno esterna a quella che li eroga la Repubblica Popolare Cinese, quindi in realtà starei attenta a parlare di una coalizione antioccidentale come spesso si fa, soprattutto quando si titola sui BRICS, diventa oddio sono miliardi, sono la maggior parte della popolazione mondiale contro di no eccetera eccetera, diciamo ovviamente è tutto molto più complicato e molto meno compatto di così. Certo, tra l'altro anche nella scorsa puntata, chi non ha ancora visto è invitato ad andarla a recuperare, avevamo menzionato proprio il fatto che intanto nei BRICS ognuno fa prima di tutto i propri interessi, abbiamo fatto l'esempio del Brasile che continua tranquillamente a commerciare con l'Occidente tanto quanto gli serve, abbiamo visto l'India che fa esattamente la stessa cosa, come commercia con la Russia, comprando petrolio, commercia allo stesso modo comprando e vendendo tecnologia, armi con i paesi occidentali, quindi appunto nei BRICS fanno un po' tutti quello che gli conviene, come è giusto che sia, tra l'altro per integrare quello che dicevi sulla Russia che un tempo voleva cogestire il mondo insieme all'Occidente, non so se ti ricordi, durante l'operazione in Afghanistan, l'operazione americana in Afghanistan, Putin aveva dato la Russia, aveva offerto lo spazio aereo russo per far fare scalo agli aerei americani, quella era diciamo tutta un'altra Russia che oggi invece si è ritrovata a circondarsi dei vari bad guy del mondo, però anche lì li controlla fino a un certo punto, come giustamente dicevi Belarus, anche lì Lukashenko fa prima di tutto i suoi interessi, quei pochi soldati mal addestrati, come sappiamo che ha, non li sta impiegando in Ucraina, tra l'altro se non sbaglio non ho neanche visto grosse notizie di dispiegamento di truppe dal confine bielorusso verso il nord dell'Ucraina, quindi non sta neanche dando accesso al proprio territorio, Lukashenko. Quanto riguarda invece la Corea del Nord, e qui vorrei un attimo approfondire il contesto in cui si trova la Corea del Nord, visto che è un paese che io studio da tempo, con interesse, e tra l'altro un paio di settimane fa sono stato anche ad una guest lecture all'Università di Maastricht, che è l'università dove studio, di Jihun Park, che è una profuga nordcoreana, trasferitasi oggi nel Regno Unito, è diventata appunto attivista, e mi ha sorpreso molto che durante la sua guest lecture, dove lei raccontava della sua fuga, raccontava della sua storia appunto di profuga, lei ad un certo punto ha iniziato ad elencare i crimini di Kim, e sorprendentemente tra i crimini di Kim ha inserito anche l'aiuto del regime nordcoreano alla Russia nella guerra all'Ucraina. Questa è una cosa molto interessante, perché anche la comunità di attivisti nordcoreani, che non è veramente una comunità perché sono più franchi tiratori, però ci sono persone tra questi che stanno denunciando questa alleanza. Per quanto riguarda invece l'alleanza in sé, e qui mi rifaccio a quello che ho sentito dal professor Andrei Lenkov, che è un professore russo, che ha una storia molto particolare, perché negli anni 80, quando ancora c'era l'Unione Sovietica, lui andò a Pyongyang a studiare, e con il crollo invece dell'Unione Sovietica si è trasferito in Corea del Sud, e adesso è professore alla Kukmin University di Seoul, quindi ha una sua autorevolezza nel campo, è anche chief editor di NK News, che è uno dei media che tratta in maniera più estensiva di Corea del Nord, e io ricordo di aver ascoltato delle sue lezioni sulla situazione di politica internazionale della Corea del Nord, e l'alleanza con la Russia rafforza la posizione della Corea del Nord, perché ricordiamo che fino a tempi recenti la Corea del Nord aveva tendenzialmente un solo padrone, che era la Cina. La strategia cinese nei confronti della Corea del Nord era quella di dare alla Corea del Nord tanto quanto gli serve per sopravvivere, anche perché bisogna sfatare un po' il mito secondo cui la Corea del Nord e la Cina sono amici. Come giustamente accennavi tu, i cinesi sono stati molto probabilmente non contenti di questo recente avvicinamento tra Russia e Corea del Nord, perché questo dà intanto un'altra linea di sopravvivenza per la Corea del Nord, nel senso che se un domani la Cina dovesse dire guardate noi adesso vi diamo meno, i nordcoreani la prima cosa che direbbero è guarda noi adesso abbiamo anche l'altro amico che ci aiuta. Anche perché il contesto diciamo geografico della Corea del Nord è quello di essere circondato tendenzialmente da tutti i vicini più grandi, più potenti, sia economicamente che tecnologicamente. La Cina è enorme, la Corea del Sud è tecnologicamente molto più avanzata dalla Corea del Nord e anche il Giappone, ricordiamo, che è lì giusto un po' più laterale nel mare, però diciamo non ci sono buoni rapporti con nessuno di questi. Quindi la strategia della Corea del Nord è quella di cercare di arricchirsi il più possibile, cercare di fare paura il più possibile ai propri vicini, in particolar modo alla Corea del Sud. Infatti questa cosa è dimostrata dal fatto che i primi ad aver lanciato l'allarme, ad aver confermato i sospetti di Zelensky sono stati proprio l'intelligence della Corea del Sud. Perché? Perché per la Corea del Sud è un pericolo reale quello di vedere una Corea del Nord che si arricchisce di soldi, di tecnologia da parte dei russi e offre in cambio appunto armi che poi finiscono in Ucraina e in questo caso di personale militare che poi può finire in Ucraina. Questo ci porta appunto ad una conferma di quello che dicevi tu, ovvero che la guerra si sta mondializzando e soprattutto che la situazione odierna sta confermando, o meglio sta rafforzando la posizione della Corea del Nord e questo potrebbe portare eventualmente anche a problemi in quella regione. Perché ricordiamo che la Corea del Sud ancora oggi non ha a disposizione armi nucleari. Ci sono dei talk tra Corea del Sud e Stati Uniti, però ancora a oggi non c'è nulla di definitivo. Ma questa è una vicenda che non credo che abbia una conclusione, anzi probabilmente è più un inizio perché appunto lo scenario che tu stai delineando è tutto uno scenario completamente diverso sul versante asiatico, sul versante pacifico, di un'instabilità potenzialmente enorme, cioè appunto la Corea del Nord che rischia di diventare quell'innesco di una situazione che da anni, da decenni è una situazione molto tesa ma che finora appunto si è riuscita a garantire qualche equilibrio anche perché comunque c'erano gli Stati Uniti a fare da garanti alla sicurezza del Giappone e della Corea del Sud con la Cina che guardava altrove, che non avanzava particolari pretese militari e la Russia che non interveniva. Nel momento in cui la Russia decide di provare a giocare una carta in Asia e ricordo che con il Giappone c'è un trattato di pace mai firmato per i famosi territori del nord, per le isole Kurili che a un certo punto di nuovo in cui la Russia che permetteva agli aerei della Nato di atterrare nelle basi militari russe era quasi una formalità, una questione di tempo che si sarebbe risolta, adesso rischia di diventare un grosso inciampo e con la Corea del Sud vediamo come la Corea del Nord negli ultimi mesi è stata molto più aggressiva rispetto al vicino del Sud e potrebbe anche essere una coincidenza, non diciamo tutt'altro che casuale perché da un lato Kim si sente rinforzato da Putin, dall'altro Putin glielo chiede appunto in questa nuova visione della Russia come il guastatore internazionale, ma Putin interessa, cioè Putin in cambio degli aiuti che dà Kim, dei soldi che dà Kim, vorrebbe da lui quel tipo di atteggiamento almeno politicamente almeno verbalmente se non militarmente di sfida, di l'ammissione di Kim agli occhi di Putin quella di diventare un altro guaio per gli occidentali o gli alleati degli occidentali, cioè gli occidentali diciamo onorari come potrebbero essere il Giappone e la Corea del Sud, appunto come dicevi tu prima un quadro molto più complicato di così perché per esempio per la stessa India che si è rifiutata di comprare il gas russo sotto sanzione, per esempio compra il petrolio ma non compra il gas perché non vuole litigare con l'Occidente, soprattutto con gli Stati Uniti, come il Brasile, Putin ha annunciato che non andrà al G20 in Brasile, ha detto a lui per non mettere in difficoltà Lula che è un suo grande amico così ha detto, in realtà ovviamente sappiamo qual è il motivo perché siccome il Brasile dovrebbe arrestare Putin e consegnarlo alla Corte Penale Internazionale all'AIA perché è incriminato per crimini di guerra vediamo come un paese indubbiamente simpatizzante della Russia, Lula ha fatto diverse dichiarazioni molto sulla linea filorussa e molto sulla linea anti-Ucraina, in passato tanto è vero che ha dovuto un paio di volte anche correggere il tiro, però nonostante questo non è pronto a schierarsi con la Russia fino al punto da invitare Putin e ignorare il mandato d'arresto, di nuovo quindi Putin dice che non va in Brasile per non mettere in barazzo Lula, sappiamo benissimo che è un po' il contrario, che Lula che gli ha detto non venire e non mettermi in barazzo perché non sono pronto a spingermi fino in fondo per te quindi questi sono due dati che mostrano come Putin alla fine nella sua alleanza istituzionale oltre un certo punto non riesce ad andare, quindi sia la Cina, sia il Brasile, sia l'India non si spingeranno diciamo a una guerra con l'Occidente come Putin la vede, come la vuole e come la sta conducendo, diventano ancora più importanti alleati che o per motivi ideologici o perché sono dei reglietti internazionali diciamo possono invece spingersi oltre perché quello è il loro mestiere, quello è il modo in cui si sono posizionati e hanno mantenuto le loro posizioni nel mondo fino a questo momento, cioè l'Iran, la Corea del Nord, organizzazioni come Hamas eccetera eccetera, quindi torniamo di nuovo appunto al discorso dell'asse del male che riemerge in questa forma strana di alleati di Putin per sfidare quello che lui vede come un sistema da demolire. Diciamo che il gioco di Putin di presentarsi anche in paesi dove potrebbe venire arrestato lui comunque prova a farlo, abbiamo visto il caso della Mongolia, in Mongolia nessuno si è sognato di arrestarlo, lui è andato, però va anche detto che la posizione della Mongolia è una posizione molto debole perché la Mongolia è uno stato chiuso tra Russia e Cina, quindi non potevano fare molto. Un paese molto più diciamo indipendente come il Brasile invece da quanto stai dicendo appunto Lula gli ha detto non venire e non mettermi in imbarazzo, quindi diciamo che Putin fa il bullo sempre con i più deboli, non fa il bullo con un pari come può essere Lula. L'altra cosa però sulla quale vorrei riflettere è che come hai detto tu nel primo episodio di questa nostra rubrica, la Cina non si sta ancora decidendo a fare l'adulto nella stanza perché in questo caso nello stallo tra Russia, Corea del Nord e Cina, questo avvicinamento tra Russia e Corea del Nord alla Cina dà fastidio però la Cina da un lato continua a mantenere la Corea del Nord, dall'altro sta continuando di fatto a mantenere anche la Russia. Come ormai sappiamo bene la Russia sta diventando sempre più dipendente dalla Cina, sia da un punto di vista militare sia da un punto di vista tecnologico e la Cina non sta prendendo posizioni in merito, questo mi porta alla domanda che immagino solo il tempo ci saprà dare una risposta su questo, quando è che la Cina arriverà mai la Cina ad un punto di rottura in cui dirà agli altri due basta, state creando una situazione che mi sta mettendo in difficoltà, anzi sembra quasi che la Russia sia il braccio armato di questa idea del bullo globale ma la Cina sia la mente che c'è dietro, ovvero la Cina potrebbe tranquillamente chiudere i rubinetti ad entrambi ma non lo sta facendo con nessuno dei due. Beh è bella questa definizione del bullo globale, potremmo immaginarci che la Cina considera la Russia come la Russia considera la Corea del Nord, cioè un cliente che per conto suo potrebbe fare il disturbatore dell'Occidente e che la Cina si propone appunto all'Occidente come la potenza con la quale parlare per tenerlo a bada. Per quanto riguarda la Corea del Nord devo dire che non sono esperti di quell'area ma francamente ho mai capito perché una potenza con ambizioni globali fondate a differenza della Russia come la Cina continua a trascinarsi dietro i Kim che francamente sono già un po' imbarazzanti. Per quanto riguarda la Russia allora secondo me un po' c'è questa cosa che ci appunto avevamo già detto che la Cina non si sente ancora pronta ad assumersi il ruolo dell'altra grande potenza né l'Occidente soprattutto gli Stati Uniti sono pronti a concederli e a riconoscerli però secondo me c'è anche un calcolo nel senso che se io fossi la Cina io sicuramente aspetterei la Russia ancora qualche risorsa se la guerra finisse adesso la Russia potrebbe ancora ci sarebbe ancora il rischio di una Russia che non so che prova qualche autonomia che prova a tornare soprattutto verso l'Occidente anche a livello economico a riprendere i commerci infatti quello che Putin continua a chiedere anche nell'ambito di un ipotetico e poco possibile negoziato l'abolizione delle sanzioni quindi se io fossi la Cina io se non altro da un aspetto puramente commerciale economico aspetterei che la Russia cada ancora di più nelle mie mani che diventi ancora più dipendente che il mercato delle automobili russo russo diventi al 99% mio non al 90% che adesso che le principali aziende che mi interessano russe anche a livello di filiere tecnologiche che vengano integrate definitivamente nelle mie filiere ancora ancora qualche non so un annetto due tre per per mettere le mani bene bene sulla Russia e per a quel punto decidere anche cosa farne quale parte tenersi quale parte eventualmente eventualmente scartare o negoziare con gli occidentali non so se questa esitazione sia dettata da ragionamenti di questo tipo pragmatico o semplicemente appunto se è una cosa già troppo grande per il momento per la Cina e se questo dilemma che rimane che da un lato una Russia disturbatrice, una Russia bullo globale non è quello che serve alla Cina meno però nello stesso tempo l'alternativa c'è una Russia che smette di essere un bullo globale che quindi cambia regime che quindi va incontro potenzialmente a una non arrivo a dire una democratizzazione perché vista da qua nemmeno col cannocchiale però comunque una vaghissima normalizzazione quindi inevitabilmente un riavvicinamento all'occidente all'Europa è qualcosa che forse la Cina ritiene comunque un prezzo che non vuole che non vuole pagare perché alla fine lo considererebbe una sconfitta è abbastanza sensato intendere che alla Cina convenga una Russia lontana dall'occidente perché diventa una Russia dipendente e vassalla della Cina questo è chiaro poi appunto per provare ad analizzare quanto la Cina effettivamente stia consciamente o inconsciamente facendo questa cosa dell'usare la Russia come bullo globale forse dovremmo invitare qualcuno che sia più esperto di noi nello specifico di Cina potrebbe essere una conversazione interessante invece per risponderti sulla Corea del Nord e sul perché la Cina la tiene in vita sentendo appunto studiosi di quell'area nello specifico spesso e volentieri la ragione che viene data è banalmente quella dello stato cuscinetto ovvero la Cina ha un problema geografico nei confronti di tutto quello che si trova ad est suo quindi il Giappone la Corea del Sud e Taiwan che di fatto bloccano il commercio e il movimento libero di navi cinesi nel Pacifico essendo tutti quanti paesi alleati degli Stati Uniti e in questo contesto la Corea del Nord appunto diventa questo piccolo stato cuscinetto che magari alla Cina non costa neanche troppo in termini di mantenimento economico e invece evita di trovarsi un confine di terra con un paese alleato degli Stati Uniti questa solitamente è la motivazione che viene data abbiamo un po detto quello che potevamo dire non credo sia il caso di spingerci oltre perché potremmo entrare in predizioni e come spesso ripetiamo qui su Liberi Oltre we are not in the prediction business quindi io ti ringrazio Anna per essere stata disponibile per questo episodio extra ringrazio tutti i nostri spettatori e vi invito come sempre a lasciare un mi piace un commento dicendo quali sono altri temi che possono interessarvi come per esempio un approfondimento sulla Cina un approfondimento su altri paesi vi dico già che nei prossimi giorni su Liberi Oltre Illusioni uscirà un approfondimento sul recente referendum nella Repubblica di Moldova per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione Europea anche lì ci sono molto probabilmente delle ingerenze russe ma appunto ne parleremo con chi parteciperà a quel contenuto io nel frattempo vi ringrazio Anna grazie di nuovo anche a te ci ridiamo appuntamento alla prossima puntata grazie grazie a te grazie a voi a presto